Ciao a tutti ragazzi, io sono ZisaVape, benvenuti nel mio canale dove si parla di eliquid, sigarette elettroniche e tutto ciò che appartiene al mondo dello svapo. Oggi voglio fare un breve video su cosa mi porto come gadget da svapo in vacanza. Può essere una sorta di tutorial o semplicemente un vlog di previaggio, chiamiamolo così. Che cosa mi porto io per andare un paio di giorni al mare? Partiamo dai tabacchi. Ovviamente l'ultimo arrivato, stiamo parlando del baffometto Xtreme White for Pod. Questo lo svapo sulla mia mini fit. Questo finirà tutto qua dentro, anche perché guardate quanto è trasparente, quindi non penso che mi darà problemi, che sporcherà assolutamente. Quindi questa è la mia pod con il baffometto, anche a mare quando voglia di tabacco è piccola, è comoda e non è ingombrante. Poi mi porto la MyBlue che voi sapete che refillo io stesso e qua ci metto il Kentucky della Bourbas. Questo lo finisco qua dentro, poi butto la testina e sta MyBlue praticamente. La poso completamente perché non ci vado a spendere altri 8 euro per due testine. Chiudiamo in bellezza con i tabacchi. Quindi mi porto il Siren sull'OBS perché non mi voglio portare tantissime batterie. Questa la batteria ce l'ha integrata. Il Siren è comodo, è facile, è versatile, lo posso mettere anche come bagaglio. Non mi perde una goccia, è così anche il Purity, ma sinceramente non mi voglio portare la Easy perché non la voglio rovinare. Magari la metto nei bagagli, la sbatte contro qualcosa, insomma non la voglio graffiare, preferisco tenerla a casa. L'ho rigenerata e rigenerazioni non ne dovrò fare più perché qua ci svaperò il perfetto tabaccoso cremoso. C'è la recensione sul canale, c'è anche la recensione del Bourbas Kentucky. Manca questo perché questo è stato l'ultimo video, lo shopping dai Svapostore, quindi ne svapo un po' e poi ci faremo il video. Stavo dicendo perché è il perfetto per lo stesso motivo del JK Barrel. Sporca pochissimo e mi permette di farmi tutti i giorni di vacanza senza dover rigenerare. Nel frattempo c'ho un buon tabaccoso, tanto per il caffè e le altre cose c'ho sia il baffometto che il Bourbas. Magari a mare così a perdita di tempo mi porto il Bourbas così tanto per fare qualche svapata di tabacco la sera. Per qualcosa di più impegnativo ti prendi qualcosa da bere, c'è il baffometto, ma ne parleremo nella sua recensione. È un solo cremoso. Allora la box che mi porto è la Spire Feed Link perché mi piace come gestisce, anche se non è un circuitato, un semi meccanico, però mi piace quanto dura la batteria qua. Va in base alla resistenza che vai. Io ci ho montato sopra il Pulse 22, la resistenza che ho fatto sono 6 spire di acciaio da 26 gouge su punta da 3. Quella che faccio sempre io per il Flavor. E che cosa ci va da svapare? Ovviamente lui, il nuovo arrivato, il Round Cookie di Danielino77. Quindi mi porto i due nuovi arrivati, più il Perfetto che è sempre nuovo ma abbiamo già visto, il Bourbas che è sempre nuovo ma abbiamo già visto. Ci ho fatto una resistenza e penso che per questo tipo di liquido mi dovrebbe durare per tutto il viaggio. Come altre cose, che cosa mi porto? Questa non è una batteria integrata, quindi mi sto portando una sola batteria, tanto in Flavor due batterie in semi meccanico mi bastano. E se non dovessero abbassare, io il Flavor lo svapo così a passatempo. Non è che sono un accanito del Flavor. Questo ovviamente me lo porto pure a mare perché se mi voglio rinfrescare invece del tabacco mi svapo un pochettino di Round Cookie. Come altre cose, un caricabatteria tranquillo con il cavetto USB per caricare OBS, Minifit e MyBlue. Che le posso anche caricare in macchina e nient'altro. Questo è quello che mi porto, il minimo indispensabile. Gli altri viaggi mi portavo un sacco di batterie, un sacco di liquidi ed è una perdita di tempo perché se siete in vacanza non avete né voglia né tempo di stare lì a rigenerare. Quindi il mio consiglio è, trovate dei buoni tabacchi che sporcano poco così non dovete rigenerare in viaggio. Una, due pod e portatevele perché soprattutto al mare sono comodissime. Poi la perdete sti gran cazzi. 15 euro ve la ricomprate invece di un altro tipo di sistema. Di non portarvi cose costose, magari si rovinano, le sbattete contro le chiavi, in tasca, nel bagaglio, quello e quell'altro. Il minimo indispensabile, secondo me, è il meglio che si può portare in una vacanza per essere rilassati e non rischiare di rimanere senza niente. Perché basta un caricabatterie per caricarne tre a batteria integrata. Una batteria là, una batteria là. Poi ne abbiamo due a testina, quindi quelle vanno sul sicuro. Le altre due hanno dei liquidi che non dovrebbero sporcare, ma se si dovessero sporcare le mettete di lato. Comunque avete le pod. Ragazzi, secondo me questo per qualche giorno al mare è l'ideale per partire, ma questo ovviamente è il mio punto di vista, questo è il mio gadget per partire. Fatemi sapere qual è il vostro. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, ditemi voi come vi organizzate, quando andate al mare, quando partite, che cosa vi portate. Condividete il video, iscrivetevi al canale di ZisaVape attivando la campanella, iscrivetevi al mio Instagram ZisaVapeTuttoAttaccato, Luigi-Padipalermo87, e al mio Twitch ZisaVapeTuttoAttaccato. Ragazzi, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video e vi auguro a tutti buone estate. Chi le ha fatte e chi le farà, buone vacanze. Chi le ha fatte e chi le farà.